buongiorno 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 la su chi c'è? ma tu sei rimasta dentro? si? cottos buongiorno buongiorno la sè cred приехa e basta sì ho capito vuoi la colazione facciamo colazione vieni qui vieni ma vieni qui dai fai la colazione mangia buongiorno eh buongiorno è appena svegliata ciao ciao dove vai arlechina macchia macchia vieni qui mangia mangia tranquilla vieni qui arlechina manchia tranquilla macchia Grazie a tutti Belli